Il museo partecipativo è in realtà una nuova frontiera dell'esperienza museale, nel quale il visitatore non è più chiamato a essere soltanto un soggetto passivo, che diventa il ricevente di determinati contenuti, ma è chiamato a fare la sua parte portando il suo contributo di esperienza, di conoscenza, attraverso progetti che coinvolgono attivamente gli spettatori e trasformano il museo non solo in un luogo di distribuzione del sapere, ma in un luogo di produzione collettiva del sapere. Oggi è più attuale che mai parlarne perché ci rendiamo conto che attraverso questa nuova missione il museo può affrontare tematiche sociali come i comportamenti per la sostenibilità ambientale, per la coesione sociale, per il benessere psicologico, che in questo momento sono le grandi sfide del nostro tempo.